Brutti a tutti ragazzi, qua è Miniscotch, e Ultrasoch, e siamo su Call of Duty Advanced Warfare, finalmente dopo 30 giorni di download sono riuscito a scaricarlo, ecco esatto, dopo 40 miliardi di anni di download finalmente Miniscotch è riuscito a scaricarlo, come potete vedere dalla pagina Facebook, quindi seguite la pagina Facebook, e possiamo iniziare, ah guardate lui, possiamo iniziare, ah, che nabo, Miniscotch è livello 25, che nabo, si vede proprio dal nome, si si, facciamo dominio ragazzi per trovare una modalità, non nuova, ma che non l'abbiamo ancora visto, qui, nuova modalità di Call of Duty Advanced Warfare, Deathmatch della squadra, si si, proprio, mai vista proprio, questo che cazzo ha, ma ragazzi guardate che c'è gente nabo, c'è gente prestigio 2 già, meno male raga che voi sentirete l'audio di Miniscotch dal suo computer, perché io lo sento baggare come se non ci fosse un po' tutto domani, ma sei serio, si, veramente, ti sento baggare un bot, c'è qualcosa che rucosa, per fortuna che poi tu mi darai il tuo audio, quindi non si sentirà baggare nel video, però, io ti sento baggare un bot, ok raga, siamo usciti da quel server, perché veramente sta baggando troppissimo, adesso cerchiamo di andare in tutti contro tutti, perché io ho fatto, ah non possiamo, perché siamo in plotone, vai, vai, una cosa a caso, dai, vai, Deathmatch, cerchi e distruggi, eh ma Deathmatch, bug on bot, proviamo, qualsiasi cosa, cerchi e distruggi, proviamo, vai signori, cerchi e distruggi, qui potremmo mettere la musica, vai, cerchi e distruggi, ci facciamo una partitina a CED, vota casuale, va, che fanno cogliere le macchie, in caso Ascend, no, Ascend è bella, mi piace Ascend, no, votate Ascend, votate, ah ecco, stanno votando tutti Ascend, buono, oh Dio, l'altri sono tutti in plotone, chi gli altri, in plotone, in plotone, in plotone, in plotone, world of tank, oh vabbè, basta, troppi riferimenti a, ad altri giochi, la verità raga, è che ci pagano fior di quattrini per sponsorizzare i giochi, magari, cazzo, magari, di la verità, quanti soldi ci pagano per sponsorizzare world of tank, durante le nostre partite, dobbiamo pagare dieci euro per sponsorizzarlo, dieci euro al minuto, ovviamente, oh ragazzi, inizia, è per quello che noi facciamo video lunghi, facciamo video lunghi, perché, chi, chi, perché ha preso 200 punti, ha preso 200 punti, durante la battaglia precedente di cerchi e distruggi, scioppone, scioppone, ragazzi, vediamo se riesco ad entrare, speriamo, ci riesco ad entrare, siamo su solar, cerchi e distruggi, attacco missilistico, dai, dai, che siamo in squadra, poi è da lavorare in squadra, ho capito, ma se mi entra non è colpa mia, io non sono ancora entrato, tranquillo, non è ancora entrato nessuno, vai tranquillo, oh, sono entrato, vai tranquillo, ok, anche io, insieme, bene, non sta laggando, non sta laggando, signori, ecco, cerchi e distruggi, la proviamo, ok, perfetto, raga, quindi, il terzo episodio di cosa, oh, che figo, non lagga, il terzo episodio di cosa, piano, 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 mini, qua si campera, piano, qua è da camperoni, lo so, perché se muori non rientri, eh, adesso non incominciate a dire, eh, mi camperate, andate a vedere i pro player, si camperano tutti, andate a vedervi i tornei, i cerchi e distruggi, si camperano tutti, ragazzi, dove sono i nemici? No, mi avevo asciottato, quello col cecchino, mi è, è uscito il volo, mi avevo asciottato, pensavo non ce l'avrebbe fatta, oh, cazzo, vai, mi ci sei solo più, tu, stavo per dire, ci sei solo più, tu, no, non è vero, c'è ancora frontliner, 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 attento, da dietro, da dietro, no, front, non mi puoi morire così, dai, ragazzi, uno a zero, pro player, adesso, adesso, fronte è un nostro iscritto, no, mai nella vita, ragazzi, dai, continuate di scrivervi a commentare che è tra poco essere lo speciale, esatto, boh, raga, stiamo aumentando, stiamo aumentando buono di scritti, eh, ogni giorno, stiamo aumentando buono, stiamo aumentando buono, ragazzi, eh, kebab, eh, bulalà, e il gdbs, è una nuova, chi ha la frontliner alla bomba, eh, dobbiamo scortarla, ah, ho perso, piano, piano, mini, sei troppo in mezzo, piano, devi andare così in mezzo, hai fatto una kill, bravo, quanti ne mancano dall'altra parte, quanti sono in tutto, sono sei in tutto, quindi vuol dire, ne mancano cinque, ne mancano, due, leggi, veramente? Sì, uno, ok, oddio, non stiamo, ragazzi, scusate se non parliamo, ma per me è la prima partita, sì, è la sua prima partita su cerchia e distruggi, vabbè, è una delle sue prime partite in totale, comunque, su Call of Duty, perché, contate che l'ha finito di scaricare ieri sera, boh, l'abbiamo vinto, boh, l'abbiamo vinto, boh, non l'abbiamo vinto, comunque, eh, cerca e distruggi, cioè, a me come modalità, non è che mi sia mai piaciuta tantissimo, preferisco un dominio, un battaglia di squadra, però, dai, dai, ragazzi, però, è il server che funziona meglio, a quanto pare, anche tutti contro tutti, eh, io ho provato tutti contro tutti, non ha mai laggato, oddio, ho fatto una kill, oddio, mi ha ucciso, bastardo lurido, bastardo putrido, bastardo putrido, prendo il cecchino, eh, dal prossimo, mini, ci sei solo più tu, ci sei solo più tu, mini, cazzo, ragazzi, no, non è vero, c'è anche i tucci, tu e i tucci, cazzo, oddio, 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 ma che cazzo fa, ma perché vai contro i nemici, ma che cazzo di, oh, che bomber, che bomber, mini scotch, attenzione, guardatelo, il problema, non sa neanche quello che sta facendo, però, li sta chillando, non finire le muni, non finire le muni, ma no, ma che figlia di fottana, non ci credo, raga, non ci credo, ha finito le muni, oh, è la prima, oh, io, io ve lo dico, lo ammetto, faccio cagare, però, calma, no, non ti è andata male, guarda, gli hai lasciato tipo uno di vita, gli hai lasciato, ti ha preso da dietro, guardalo, dovevi salire dalla scaletta, lui è il superman, avete visto, dovevi scalire, dovevi scalire, sì, dovevi salire dalla scaletta, oh, mini, io, vieni con me, mini, io ho il cecco, mi devi proteggere, vieni con me, va bene, prendo la bomba, non prendere la bomba, che cazzo di problemi hai, Con calma, con calma, mini, ce la posso fare, oh, cazzo, oh, cazzo, chi ti ha ucciso, qualcuno col cecco, ha fatto quiscop, ma porca puttana, ti ha one shotato uno col cecco, attento, attento, è lì davanti a te a sinistra, oh, cazzo, cazzo, ci stanno decimando, merda, merda, cazzo, cazzo, come gioco è fighissimo, sì, come gioco è molto bello, ma porca di quella puttana, 0-4, signori, 0-4, come perdere tutti i round, ma adesso è finito, cerca e distrugge, abbiamo ancora un round, no, è finito, visuale morte, è finito, è finito, cosa facciamo, facciamo ancora una partita, ah no, intermezzo, boh, e allora mi sa che sono 4, allora mi sa che se arriviamo 4 c'è la parità e si fanno ancora un'altra, è a 3 tempi, mi sa, mi sa che è a 3 tempi, ok, 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 mini, non avanzare troppo, non avanzare troppo, cazzo, c'è uno a destra, attento, io sono dietro di te, no, non è vero, tu sei dall'altra parte, è un andato, buono, mini, è un altro andato, bravo, e mi scocce, in cerca di distruggi, fa strage, ma cazzo, no, gli ho lasciato uno di vita, sempre allo stesso, ci sono solo più io, sì, l'altro è nella casetta, nella casetta, sinistra, sinistra, gli ho ucciso di qua, sì, lì sotto, lì dentro, a destra, almeno era lì quando mi ha ucciso, bravo, calpesta il mio cadavere, io calpesco quello che voglio, perché io sono il più pro player di Call of Duty, adesso me lo trovo, attivando una bomba, vai su, che cazzo fai, non disattivarla, non disattivarla, vai, destra, attento, sui tetti, guarda sui tetti, eh, merda, col cecchino, ma dai, ma questo come fa col cecchino, Cribio, Cribio, Berlusconi sono, comunisci, guardalo, è uscito, guarda che roba, che culo, che culo, dai, adesso me lo prendo anche io il cecchino, ma non riuscirò mai a fare quanto fa lui, dai, ci provo, a parte che ce l'avevo già il cecchino, che stupido, ce l'avevo già il cecchino, pro player, su cerchi e distruggi, perché sto facendo positivo, sei in positivo, quanto sono, 4, sei in positivo, 6, quanto sei, miniscotch, 5, 4, oh my god, miniscotch, il best pro player in the world, proprio, Cristo, l'ha appena detto, hai visto Cristo, l'ha appena detto, ne ho preso uno al volo, oh mio dio, e vabbè, certo che miratissima, qua non è che mi metto a fare i quiscope random, così, eh, tra tutto ho la, sinistra tetto, ho la COG, eh, bomber, se forse non l'hai notato, un po' difficile fare i quiscope random, così, eh, se praticamente è arrivato solo più tu, più l'altro, veramente, se vuoi ti posso dire dove mi è ucciso il mio, oh cazzo, merda, ok non te lo dico, ok non me lo dici, c'è un altro col cecco, eh vabbè, questo spara random, però cazzo, come farsi a sgabbare in questi modi, sì, non sa neanche tenere in mano, vabbè, non è che io sia il primo player, però, ragazzi, voi ammirerete la nostra, ascesa verso il potere, impareremo a giocare, con voi, con voi impareremo a giocare, esatto, sconfitta, sconfitta, ma no, ma dai, te lo sei, fine, boh ragazzi, spero che questo video, su questo video, tocco l'impositivo, ma quanto, ma amici, cerca di strugge, 6 minuti e 23, ma 6 minuti e 23, questo round, tutto cerca di strugge, no, non lo so, boh, non lo so ragazzi, non so quanto sarà venuto questo video, eh, comunque, eh, per questo video, finisce qua, quindi adesso, usciamo un secondo dalla lobby, mini, usciamo dalla lobby, no, ma io stavo creando una classe, vabbè, vabbè, ti ho portato dietro, non ti preoccupare, vabbè ragazzi, come stavo dicendo, il video finisce qua, questo video finisce qua, e, domani, al giorno, in cui state vedendo questo video, uscirà il prossimo video, su Call of Duty, non sappiamo ancora su cosa sarà, ragazzi, come al solito, devo dirvi una cosa, prima di finire, se vi piace Minecraft, diciamo che io inizio una specie di serie, su una custom map, vabbè, senza compromettere le altre serie, con c'erano una serie, esatto, senza compromettere le serie principali, lui fa anche Minecraft, ovviamente, cercherà prima di fare video, con me, sulle serie tipo, code, tipo, stati iscriviti, che uscirà, giovedì prossimo, quindi restate sintonizzati sul canale, perché ovviamente, uscirà la serie, se lo stati iscriviti, probabilmente, il primo video lo farò solo io, perché la mia connessione è talmente pro gamer, che avrà già scaricato, stati iscriviti, esatto, però gli impedisce di giocare, perché è una connessione talmente, potente, che, vedo il futuro, esatto, esatto, avrebbe gli hack, quindi, non lo farò a giocare, vabbè, comunque, a parte le puttanate, raga, lasciate mi piace, come al solito, perché state lasciando, più mi piace del solito, per questi video di code, siamo molto contenti, quindi, stiamo vedendo che vi stanno piacendo, questi video di code, andate in descrizione, come al solito, che c'è la nostra pagina di Facebook, Instagram, Twitter, Twitter, la pagina di Facebook, è importante, e noi ci vediamo, in un prossimo video, brutto a tutti, brutto a tutti ragazzi, da � though, e noi ci vediamo, Grazie.